Sono migliaia e migliaia di brem morte, si vede, tutte brem, una strage chissà che cosa è stata, guardate, migliaia, centinaia, no centinaia, migliaia, tutte brem, un disastro, un vero e proprio disastro, un siluro, una carpa, un avvelenato Tevere, altra carpa, grassi, vorrei sapere che cosa hanno buttato nel Tevere, guardate qua, carpone, continuiamo con brem, brem, super brem, pesce di varia natura, un disastro.